I 1860 elettori di Pianello, che domenica 26 maggio saranno chiamati alle urne, avranno una sola possibilità di scelta. Pianello rientra infatti nel novero dei quattro comuni piacentini, gli altri sono Besenzone, San Giorgio e Al Seno, dove è stata presentata una sola lista. Per Pianello si tratta di Insieme per il nostro futuro, una civica con cui il sindaco uscente, Giampaolo Fornasari, 63 anni, dottore commercialista, chiede ai pienellesi la fiducia per un terzo mandato. Con lui corre una squadra di dieci sostenitori. L'avversario della mia lista civica è il quorum, dobbiamo superare il 50% degli elettori iscritti, per cui se amate Pianello chiedo ai miei cittadini di andare a votare. Di opere ne abbiamo fatte tantissime in questi dieci anni, quasi 8-9 milioni di euro. Per il futuro vorrei sistemare l'area antistante al cimitero, creando un giardino molto bello, sistemando il piazzale. E poi vogliamo che le frazioni abbiano pari dignità con il capoluogo, sistemando le scrade, cercando di mantenere tutto unito, capoluogo e frazioni. Questo sarà il nostro futuro.